Enrico, sono le sette, la sveglia! Sveglia? Ma quale sveglia? È un codice morsa e citta! Oh mio Dio, un sommergibile russo! Devo andare, mi aspettano! Una serata Blockbuster è così straordinaria che la vivi sino al mattino, soprattutto oggi, perché con così tanti titoli e così tante copie, Blockbuster è il numero uno nel DVD! Make it a Blockbuster Night! Enrico, lo spegniamo o no, sto codice mors? Grazie a tutti!